Passiamo adesso alla fondazione di partecipazione. Allora, la fondazione di partecipazione ha alcuni elementi molto interessanti, altri elementi sono un po' più complicati, andiamo a vederli insieme. Allora, innanzitutto la fondazione di partecipazione ha delle caratteristiche che potremmo definire alcune tipiche del modello della fondazione, così come identificato dal codice civile, altre che sono molto simili a quelle di un'associazione. La premessa ulteriore che si fa è questa. La fondazione di partecipazione è un modello atipico, nel senso non si trova nel codice civile o in altra fonte normativa un articolo rubricato fondazione di partecipazione o qualcosa di assimilabile. è il prodotto di un'attività dei soggetti privati, i quali, sfruttando la libertà di associazione, per dirne una, hanno definito nel corso del tempo dei modelli che si riconducono e che vengono chiamati fondazioni di partecipazione. Si dice fin da subito, dico fin da subito, che la fondazione di partecipazione è un modello ampiamente modellabile da parte dei suoi partecipanti, quindi non si voglia immaginare un modello unico per la fondazione di partecipazione. Vediamo adesso i tratti essenziali, cioè spieghiamo perché un gruppo di persone potrebbe ritenere la fondazione di partecipazione come lo strumento utile per fare una comunità energetica. Il motivo essenzialmente è questo. Vi è sicuramente un maggiore controllo da parte dei soci fondatori sul progetto fondato. Perché questo? Perché, come dicevo prima, la fondazione di partecipazione tiene insieme le caratteristiche che sono proprie di una fondazione con quelle che sono proprie di un'associazione. La fondazione si dice in dottrina è un patrimonio personificato, cioè la fondazione è il dare ad un patrimonio una funzione specifica che sia quella di realizzare un'utile da distribuire a degli azionisti. Si dà a quel patrimonio una funzione destinata a durare nel tempo e si ha una dissociazione appunto fra il patrimonio e colui il quale lo ha conferito per conseguire quegli obiettivi. Al tempo stesso però nella fondazione di partecipazione si ha una possibilità da parte di altri soggetti ulteriori rispetto a quelli che hanno partecipato alla fondazione di apportare risorse alla fondazione sempre per conseguire lo stesso scopo che ci siamo dati al momento della costituzione o comunque in fase di esercizio della vita della fondazione. Quindi questo spiega perché in alcuni casi è visto come un modello interessante per le comunità energetiche. I motivi sono vari, quindi abbiamo detto similmente a quanto attiene alle associazioni c'è una libertà di ingresso, quindi quel requisito che mi è necessario per le comunità energetiche io l'ho soddisfatto. Ho un patrimonio che ha portato non in egual misura da tutti quanti, talunni apporteranno molto, talunni apporteranno poco. Questa differenziazione consente di definire una distinzione tra il socio che è un socio fondatore che conta di più e un socio che si aggrega successivamente e che per dirle parole povere conta di meno. Ora, tenete conto di un aspetto. Nel caso della fondazione di partecipazione, proprio perché è un modello atipico, noi vediamo una, mettiamola così, c'è una responsabilità, c'è un lavoro ulteriore da fare da parte di coloro i quali costituiscono il soggetto giuridico che è molto più forte rispetto a quello di un'associazione o di una cooperativa. Cioè, quando si ha a che fare con dei modelli che magari hanno la loro imperfezione, però quelli sono, ne abbiamo definita le caratteristiche che ci portano a dire che vanno bene per fare una comunità energetica, si sta entro quei paletti che magari sono un po' rigidi, però in fase di redazione dello statuto e del regolamento interno non c'è un lavoro clamoroso da fare. Quando si ha a che fare con un soggetto atipico come la fondazione di partecipazione, che tiene dentro delle caratteristiche che sono proprie di due soggetti diversi, c'è un lavoro non indifferente per non solo far funzionare il modello rispetto a il tipo giuridico, ma soprattutto per farlo funzionare rispetto a quello che è necessario che vi sia come comunità energetica. E vedete che si torna sempre lì. Cioè, il tenere insieme e far funzionare a dovere l'aspetto strettamente di soggetto giuridico autonomo con quello di configurazione che deve rispettare i paletti che il decreto 199 del 21 ti ha dato. D'accordo? Quindi, nel caso della fondazione di partecipazione, il lavoro da fare in fase di redazione dello statuto non è per niente banale. Se uno lo fa bene ed è bravo, è sicuramente uno strumento interessante. È uno strumento interessante che sicuramente non suggerisco a chi vuole fare una comunità energetica di quartiere o poco più. Nel senso, è una fondazione, è una fondazione, quindi si costituisce con il notaio, è una fondazione, quindi 30.000 euro di capitale da mettere a disposizione. C'è una gestione che non costa come quella di un'associazione e, insomma, è un soggetto giuridico impegnativo da costituire e da gestire dal punto di vista economico. Dopodiché, se vi sono le condizioni economiche, se gli attori sono ristrutturati, che rinvengono la bontà di questa scelta, è sicuramente un soggetto flessibile e utile.